Ci troviamo a Chiauci, come potete vedere dietro di me i vigili del fuoco in azione che insieme ai carabinieri stanno cercando una persona dispersa dalle prime informazioni. Sembrerebbe si tratti di un ragazzo che era ospite di una struttura di accoglienza proprio qui a Chiauci. Questo ragazzo straniero che avrebbe fatto perdere le sue tracce da ieri sera, la macchina dei soccorsi si è attivata da questa mattina sul posto, come detto, vigili del fuoco e carabinieri che stanno proseguendo con le ricerche.